buongiorno amici del palachecco siamo qui con monti man of the match grande vittoria per la virtus leoni seconda partita che match è stato stato difficile perché comunque c'erano alcuni giocatori del celleno che erano molto forti però abbiamo tenuto bene botta soprattutto abbiamo fatto due gol belli e ce la siamo cavati anche questo è vinta due parole sul mister come ti trovi mi sta benissimo il ruolo preferito in cui preferisci giocare o centrocampista centrale treportista a chi ti ispiri di calciatore di bale che era juve quest'anno come la vede la juve male il campionato di vincerà secondo me vado fiducioso aiuti va bene la champions invece non la juve va bene dai in bocca al luo per il proseguito del torneo e un saluto alla mamma del babbo devo dire qualcosa li saluto e gli chiedo grazie perché se sono diventato così è grazie a loro va bene bravo ciao